Reggio potrebbe avere il primo bilancio previsionale approvato da un consiglio comunale dopo lo scioglimento. Il documento è stato approvato ieri in commissione bilancio a Palazzo San Giorgio con i voti della maggioranza. Il primo documento contabile è interamente redatto e pensato dall'amministrazione Falcomatà, un vero e proprio banco di prova che però dovrà essere prima approvato dall'assise cittadina e poi verificato nella sua efficacia nei prossimi anni. Questo però non impedisce all'assessore Arramo Armando Neri di esprimere la propria soddisfazione per un momento importante della vita pubblica cittadina. Legalità, veridicità, normalità e sostenibilità sono queste le parole d'ordine del documento di bilancio che portiamo all'esame del consiglio comunale, ha detto l'assessore. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto e della grande partecipazione ai lavori della commissione. Un bilancio previsionale, ha dichiarato ancora Neri, che fa pulizia dei residui attivi e passivi e fa luce sulla situazione reale delle casse comunali tenendo al centro le vere esigenze dei cittadini, ai quali finalmente, ha concluso il delegato al bilancio, presentiamo un documento contabile che rappresenta una vera e propria inversione di tendenza rispetto allo sfacelo prodotto in questi anni. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!